Occorre prestare molta attenzione nella vendita della propria automobile, specialmente quando non vengono utilizzati canali ufficiali e conosciuti. La disavventura è capitata ad una signora di Fano che si è rivolta alla polizia stradale di Pesaro per denunciare una truffa subita. La donna ha riferito agli agenti di essere stata intestataria di una Volkswagen Touran nel mese di giugno e di aver deciso di venderla inserendo il classico annuncio sui maggiori siti di vendita. Passato qualche giorno poi ha ricevuto una telefonata da un signore che si è proposto per l'acquisto. Sono seguite le presentazioni di rito e l'esame dell'auto, poi l'uomo si è determinato per l'acquisto programmando, d'intesa con la venditrice, l'atto di vendita e il passaggio di proprietà. Ma è stato così tempestivo anche nel consegnare il compenso con un assegno di 18.000 euro. Tuttavia, al primo tentativo di monetizzare l'incasso, il titolo di credito apparentemente originale è risultato completamente falso e in alcun modo collegato a conti reali. Avviata un'indagine alla Polstrada è risalita all'autore della truffa. Si tratta di un cinquantenne pugliese, senza fissa dimora e irreperibile sul territorio. Ulteriori accertamenti hanno permesso di appurare che era già stato arrestato in Germania qualche mese prima, mentre tentava di vendere un camper, anche in questo caso provendo di truffa. Gli agenti però lo hanno rintracciato in una provincia romagnola dove è stato denunciato per truffa e falso. Ma le indagini proseguono perché potrebbero essergli attribuiti ulteriori reati della stessa natura. Il veicolo della Fanese invece è stato ritrovato dalla squadra investigativa in Austria, dove sono state avviate le procedure per consentire la restituzione del mezzo alla legittima proprietaria.